Ci troviamo con Alfonso Parmieri che è reduce dalle olimpiadi della matematica che si sono svolte a Cesenatico. Che posto hai ottenuto? Sinceramente non vi è una vera e propria graduatoria e più che altro in queste gare si viene premiati per l'eleganza e la correttezza dei propri problemi. Fortunatamente e non proprio fortunatamente ma grazie a numerosi stage e grande e faticoso lavoro sono riuscito ad ottenere una menzione d'onore, senso premiato per l'eleganza e la correttezza di un problema svolto correttamente. Negli anni passati ti sei cementato con le olimpiadi della matematica oppure con eventi simili alle olimpiadi, tipo magari giochi della matematica o comunque altri appuntamenti di questo tipo? Da quando ero un bambino praticamente ero appassionato della matematica grazie ai miei genitori che avevano appeso un quadro delle tabelline dietro la porta della cucina e quindi ho cominciato ad amare la matematica. Alle scuole medie ho partecipato ai giochi matematici e sono passato tre volte a Milano, una volta ottenendo anche un'ottima posizione nella graduatoria alla Bocconi ma quest'anno ho scoperto veramente qualcosa di totalmente diverso perché questa la potremmo definire come la matematica decadente, nel senso la matematica per la matematica senza fini, senza scopi ulteriori ma soltanto una matematica che ha il piacere di essere elegante e il piacere di essere fini a se stessa. Secondo te per quella che la tua esperienza questa materiale si può apprendere sui banchi di scuola oppure si nasce proprio con una predisposizione per la matematica? Mi fai una domanda che è quasi il centro della filosofia di duemila anni di storia ma rispondo che certamente più che essere predisposti per lo studio della matematica ci deve avere anche la passione e pazio significa soffrire nel senso di faticare, studiando certamente i giochi perché questi altri non sono che giochi intuito appassionano e quindi consiglierei a tutti di svolgere questa esperienza per conoscere la matematica da un'altra prospettiva. Il tuo futuro scolastico una volta che finirai il liceo scientifico? Sono molto combattuto nella scelta da effettuare ma siamo intenzionati comunque a rimanere nell'ambito scientifico per quanto le materie umanistiche possono essere interessanti, quindi sarà tra ingegneria e matematica. Però spero di rimanere nell'ambito delle scuole di eccellenza che curano sicuramente più che il risultato finale anche la forma e non prediligono soltanto il contenuto per rimanere sempre a livelli elevati. Se dovessi dare un consiglio a un tuo amico o amica che fa un pochettino a botte con la matematica, abbisticci un po', cosa gli diresti o le diresti per cercare di potenziare le sue conoscenze? Allora, la matematica io l'ho sempre considerata come un gioco e la matematica non si studia, si capisce, quindi direi di guardare la matematica da un'altra prospettiva, al di là dello voto che può determinare un compito di matematica, ma cercherei di consigliare di guardare la matematica come se fosse qualcosa di astratto, di divertente e di cominciare a fare matematica proprio da qualcosa che non c'entra nulla con la scuola, come per esempio i sudoku o come per esempio qualche gioco che vi è sulla settimana enigmistica, che ci fanno migliorare in matematica, ci fanno sviluppare un intuito matematico senza dover essere per forza legati alla materia scolastica, che poi naturalmente si migliorerà. Il giorno della gara, cioè quando hai svolto la gara, quindi il periodo e poi magari se ci puoi spiegare il percorso che ti ha portato a Cesenatico. La gara parte dall'istituto, c'è una fase d'istituto i cui giochi si chiamano giochi di Archimede e quest'anno in tutta Italia hanno partecipato all'incirca, secondo i dati dell'UMI, 250.000 ragazzi. Tra questi 250.000 ragazzi ne passano soltanto alcuni, dalla fase d'istituto, a una fase provinciale. Noi della regione Basilicata, essendo non tantissimi partecipanti come in altre regioni, essendo naturalmente più piccola la popolazione, abbiamo una fase regionale e soltanto due ragazzi sono passati alle fasi nazionali. Alle fasi nazionali il 5 maggio si svolgono nella cittadina di Cesenatico, che ormai da anni è praticamente il centro della matematica italiana per i licei, per questo punto di vista, si svolgono le fasi nazionali dove vi sono 380 ragazze all'incirca che vengono premiati in base ai loro risultati. Frequento la quinta A del liceo scientifico Enrico Fermi di Policoro e vorrei ringraziare per questo risultato tutti i professori di matematica della mia carriera scolastica, a partire dalle scuole elementari fino al liceo con la mia professoressa Maglio e soprattutto anche la possibilità che la scuola mi ha dato di partecipare a numerosi corsi di preparazione per queste gare.